In cosa si riconosce nello stile di Lamberge? Beh, sicuramente Lamberge è un marchio che interpreta la libertà, la vita vicina alla natura, la libertà, queste cose qua. Le indossa? Sì, certo. Le indosso e poi stiamo collaborando per fare una linea di scarpe da barca che sia un po' più tecnica. Ci dica qualcosa in più su questa linea, come è nato questo progetto? È nato perché ci siamo conosciuti e ci è venuta questa idea di collaborare, di lavorare insieme. Faremo tre modelli di scarpe diverse che saranno per la prossima stagione. Che caratteristiche avranno? Beh, saranno un po' particolari, nel senso che c'è molta attenzione ai materiali, alla suola, al fatto che comunque è a tenere il piede fisso, fermo. Quindi saranno due modelli un po' più tecnici, uno invece più casual, diciamo, però che anche lui è ottimizzato. Di lei è un grande viaggiatore. Cosa non manca mai in valigia? Cosa non manca mai in valigia? Boh, non lo so. Quali sono i pezzi di abbigliamento che comunque predilige? Ma non sono uno troppo attento a queste cose, in realtà. Sono un tipo piuttosto essenziale. Ci può dire qualcosa sui suoi prossimi progetti lavorativi, prossimi viaggi? Sì, io sto preparando una barca per correre in equipaggio con cui faremo tre record in Atlantico l'anno prossimo. Grazie mille. Grazie a lei.